Sulle bollette del progetto case dei MAP si è risparmiato un milione di euro. A parlare è direttamente il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che ha inteso fare alcune precisazioni sulla vicenda delle somme versate dal comune dell'Aquila e Banca IFIS per il pagamento delle fatture per i consumi di luce e gas degli alloggi del progetto case MAP riferite agli anni scorsi. La prima precisazione, la più importante a questa, gli aquilani hanno risparmiato un milione di euro così biondi. L'annosa questione delle bollette insolute è stata affrontata con decisione da questa maggioranza che ha ereditato una situazione disastrosa, ha detto il sindaco. Se è vero che l'ente, proprietario degli immobili, deve necessariamente saldare le spettanze arretrate per le utenze intestate al comune, a prescindere da quanto sia stato riscosso dagli inquilini, è altrettanto reale che, grazie all'operazione portata avanti dalla maggioranza e approvata con un'apposita delibera di giunta, ha versato, nei confronti dell'Istituto di Credito, le somme relative alle sole spettanze per le bollette, stornando, grazie a un'importante opera di mediazione, oltre un milione di euro richiesto a titolo di interesse. In precedenza, a ottobre, dice Biondi, la giunta ha approvato un'altra delibera, con cui sono state stabilite modalità di emissione delle bollette e il recupero delle somme relative agli anni precedenti, che verranno recapitate agli ormai ex inquilini morosi di alloggi case e MAP, nonché la fissazione di parametri per il riallineamento delle posizioni, di quanti ne usufruiscono attualmente. È solo il caso di rilevare, ha concluso il sindaco, che negli anni scorsi la giunta precedente, con un accordo dubbio sotto il profilo procedurale e amministrativo, aveva stabilito di pagare a banca sistema non solo le bollette di competenza del comune, ma anche un ulteriore milione di interessi per mancati pagamenti. Questi sì, erano soldi che gli aquilani potevano risparmiare, procedura peraltro non conclusa e che ha portato a un altro contenzioso da cui potrebbero scaturire ulteriori spese per le casse comunali.